In questa puntata parliamo di Turisimeti, uno degli esponenti della estroflessione, dove però definirlo uno degli esponenti della estroflessione è secondo me riduttivo, in quanto è vero che prima di lui c'è stato Castellani, Bonalumi e subito dopo Turisimeti in una ipotetica scala, ma in realtà Turisimeti ha un suo marchio, un suo timbro inconfondibile rispetto agli altri due, che anche essi hanno una loro timbrica che gli consente di essere riconoscibili, di distinguerli l'uno dall'altro, e così accade per Turisimeti perché lui ha utilizzato sempre questo simbolo dell'ovale, per cui è vero che è uno degli estroflessori, ma è anche vero che le sue estroflessioni sono assolutamente riconoscibili a colpo d'occhio, e questo è importante, artista scomparso da poco, di cui vediamo subito il record, in realtà il record è formato da un trittico di tele e estroflessi, dove si intuiscono tutti quei piccoli ovali, questa è un'opera del 1965, in quanto trittico ha una dimensione importante e questa opera unica è stata giudicata da Sotheby's a Londra, quindi anche questo è indice di qualità perché evidentemente ha un mercato internazionale, è stata giudicata a Londra alla somma di 244 mila euro più, euro più, euro meno. Ecco, questo per quanto riguarda il suo record, per avere la certezza, per avere una sensazione più diretta di quelle che sono le aggiudicazioni di Turisimeti, guardiamo il solido grafico del coefficiente medio, ricordo il coefficiente medio anno viene calcolato, viene estrapolato da un algoritmo, prendendo in considerazione tutti i dati ufficiali delle aste internazionali, per cui sono dati affidabilissimi, sono numeri, valori assolutamente certi, diciamo ci potrebbe essere una probabilità dell'errore dello 0,001 per mille, perché sono dati che vengono controllati e ricontrollati, e cerchiamo di attingere il maggior numero di informazioni possibile da un grafico che a prima vista potrebbe ingannare, perché nel periodo che va dal 2014 al 2016, 17, i valori sono superiori a quelli degli ultimi anni, però come diciamo sempre anche nelle altre rubriche, i picchi vanno valutati, è evidente che nel triennio, in quell'anno dal 2014 al 2016, evidentemente c'è stato un fortissimo interesse nei confronti delle opere di Simeti, e sappiamo che l'interesse nei confronti delle opere di un artista potrebbe anche non essere completamente naturale, però diciamo certe strategie di mercato a noi non interessano, noi ci affidiamo ai numeri e i numeri non mentono. Quello che è evidente è che comunque a partire dal 2017, anzi 2018 ancora meglio, la linea più o meno è costante, anzi è in leggera salita, perché se prendiamo i dati del 2018 sono inferiori come valore 11,96 e certamente minore di 12,26, quindi negli ultimi 3-4 anni c'è una leggera salita, quindi non facciamoci ingannare dalla discesa che è venuta dal 2015 al 2016, al 2018, anzi. Prendiamo in considerazione invece la parte buona del grafico, la salita negli ultimi 4 anni, non solo la salita degli ultimi 4 anni, ma anche il confronto con l'inflazione media, ovvero prendendo in considerazione gli acquisti fatti nel 2011, quindi calcolato il coefficiente medio del 2011 che era pari a 4,91, questo 4,91 che noi possiamo equiparare per ipotesi a 4,91 euro, o 491 euro come preferite, non cambia nulla, questo valore 4,91 rapportato con i dati dell'inflazione ufficiali, dell'Istat, nel 2021 avrebbero un potere d'acquisto pari a 4,57 e fin qui nulla di eccezionale, nel senso che sappiamo che se avessi messo in un cassetto 4,91 euro, quindi circa 5 euro, oggi con quei 5 euro avrei un potere d'acquisto pari a 4,57 perché l'inflazione evidentemente è sempre in discesa. Però la cosa importante qual è? Che se avessimo acquistato nel 2011, 2012, dove il coefficiente medio più o meno era simile, 4,91 e 4,76, quindi addirittura nel 2012 leggermente più basso, se noi avessimo acquistato opere in quegli anni, oggi il coefficiente medio, quindi il potere d'acquisto del valore reale sul mercato di queste opere, sarebbe pari a 12,26, ovvero tre volte tanto. Quindi chi ha comprato opere agli inizi degli anni, quindi 2011, 2012, oggi si ritrova ad avere tre volte tanto, chi viceversa le ha comprate a cavallo il 2014-2017, adesso deve aspettare che questa salita che si sta verificando dal 2018 a oggi, lenta, deve aspettare un attimo per magari rimetterle in commercio. Sicuramente, conoscendo la storia dell'artista, sicuramente non si corrono forti rischi a mettere opere di discusi medie, perché storicamente il coefficiente medio è in salita, quindi la linea di tendenza è in salita, per cui con somme non comunque abbordabili, parliamo di somme nell'ordine delle decine di migliaia di Euro, di poche decine di migliaia di Euro, chi può potrebbe mettere in collezione un'opera di autori simeti senza rischiare grossi capitali. Grazie.